Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Stando ad alcune indiscrezioni, in casa Mediaset ci sarebbe stato un terremoto pazzesco, una big sarebbe stata sostituita Di chi si tratta? In casa Mediaset è tempo di bilanci, di cambi e di nuove decisioni da prendere Un altro anno televisivo, da settembre a maggio, sta giungendo al termine per quanto riguarda i principali programmi che ogni giorno tengono compagnia e informano il pubblico a casa Ed ora Pier Silvio Berlusconi insieme al suo team sta cercando di capire come organizzare al meglio il palinsesto estivo Mediaset.log.La sua volontà è quella di mantenere attivi anche durante i mesi più caldi l'informazione e i programmi di attualità come era stato per il periodo natalizio Nello specifico, si sta pensando a come organizzare pomeriggio 5 al cui timone durante tutto l'anno c'è stata e c'è da lontano 2008 Barbara D'Urso La conduttrice attualmente è anche al timone del reality La Pupa e il secchione show su Italia 1 Programma che con la sua conduzione sta vivendo un nuovo percorso e riscuotendo un grande successo tra il pubblico a casa Ma quindi Pier Silvio Berlusconi cosa ha pensato per l'estate? E chi è la Bing che potrebbe essere stata sostituita? Mediaset, terremoto in atto, sostituita la Bing.Stando ad un'indiscrezione lanciata dal settimanale oggi La Bing di cui si parla in questi ultimi giorni e che potrebbe essere sostituita da Mediaset per il periodo estivo è proprio Barbara D'Urso Già durante il periodo natalizio, se van vi ricordate, aveva preso il suo posto Simona Branchetti conducendo così pomeriggio 5 e Miss Il suo programma aveva riscosso un tale successo all'epoca che, come riporta Libero Quotidiano, l'azienda avrebbe pensato di metterla per la stagione più calda al timone di Mattino 5 Invece per quanto riguarda pomeriggio 5, chi dovrebbe prendere il posto della conduttrice della pupa e il secchione chef? A quanto pare, stando sempre all'indiscrezione riportata sul settimanale oggi, potrebbe toccare alla giornalista e conduttrice Veronica Gentili Novità in arrivo.Insomma, una grande novità e una bella opportunità per la giornalista di controcorrente Ora resta da capire se si tratta solo di indiscrezioni o se queste verranno confermate al più presto Una cosa è certa, Mediaset anche per il periodo più caldo sta pensando a sferrare un bell'attacco alla concorrenza Rai Resta da capire chi vincerà la guerra degli ascolti.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video